Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Concludiamo questo percorso su Arthur Schopenhauer parlando della Noluntas e dell'arte della compassione o agape e dell'ascesi per Schopenhauer. Prima di entrare nel discorso partiamo proprio da quello che Schopenhauer dice a proposito della Noluntas, cioè quella rinuncia alla volontà che può essere raggiunta attraverso l'arte, l'ascesi e l'agape. Sentite che cosa dice Arthur Schopenhauer in questo libercolo, se lo vedete, eccolo qua, l'arte di conoscere se stessi. Sentite, volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Questa è la massima che ha guidato la mia vita. Volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Diventare perciò un uomo senza ambizioni e senza bisogni, dice Schopenhauer. La volontà è infatti l'elemento assolutamente infimo, spregevole in noi. Certo, perché produce sofferenza e noia. Quindi bisogna nasconderlo come si nascondono i genitali, benché siano entrambi, volontà e genitali, radici del nostro essere. La mia vita è eroica e non si può valutare con un metro da filisteo o con il cubito del bottegaio, né con una misura proporzionata alla gente comune che non vive altra esistenza se non quella individuale, cioè l'esistenza fatta di mondo per rappresentazioni, limitata a un breve lasso di tempo. Già in queste poche righe Schopenhauer ci dice che cos'è la noluntas. La noluntas, quindi è la rinuncia alla volontà di vivere e quindi ai suoi inesauribili desideri. Rinuncia alla volontà di vivere. Volontà di vivere, abbiamo detto, è desiderare per desiderare, volere per volere, sete insaziabile, oscura onnipotenza, impulso cieco, irrefrenabile, irrazionale, senza scopo egoistico. E quindi paradossalmente tragico, perché i desideri non sono mai raggiunti. Il desiderio funziona proprio perché lavora sulla mancanza, sulla mancanza, non sul soddisfacimento. E allora dentro questo mondo che è volontà oggettivata e quindi rappresentazione, io per sfuggire all'incubo della volontà di vivere, all'incubo del desiderio, delle passioni, delle aspirazioni, delle ambizioni, dei bisogni, devo praticare Noluntas. Come pratico la Noluntas? Arte, Ascesi, Agape. La Noluntas quindi è l'uomo senza vizi, l'uomo senza bisogni, l'uomo senza ambizioni, l'uomo senza desideri, l'uomo che è indipendente, cioè non è più dipendente dagli oggetti materiali o idealistici del mondo. Per cui Schopenhauer ci dice che per liberarsi dal dolore di un universo in cui tutto soffre, un universo fatto di egoismi, un universo fatto di uomini che desiderano l'oggetto e non appena lo raggiungono si annoiano, in questo mondo come uscirne. Ricordiamoci che Arthur Schopenhauer è, diciamo così, attratto e anche un grande cultore delle discipline filosofiche orientali, in particolare l'induismo e il buddismo, come anche il confucianesimo, che sono tutte religioni orientali basate sul dolore, religioni del dolore, e per questo poi Nietzsche dirà più vere, perché sono religioni che non lavorano sul peccato, come il cristianesimo, ma sul dolore. Quindi per lavorare sul dolore e per sfuggire alla volontà di vivere che causa il dolore, noi dobbiamo intraprendere un cammino di abnegazione dei propri desideri, delle proprie ambizioni, dei propri bisogni, attraverso l'arte, l'agape, l'ascesi. Cominciamo innanzitutto con l'arte. Che cos'è l'arte per Arthur Schopenhauer? L'arte per Arthur Schopenhauer è contemplazione disinteressata del mondo, cioè è distacco dal mondo. È distacco dal mondo, quindi disinteresse, sguardo stoico e anche gnostico nei confronti del mondo, che permette di guardare questo mondo dall'esterno e oggettivarlo nella sua essenza. È un piacere estetico l'arte, è un piacere estetico l'arte, ma l'arte ci permette di cogliere le idee eterne, ci permette di rivelare il noumeno del mondo. L'arte in questo senso è liberatrice, l'arte in questo senso è liberatrice, ma attenzione, l'arte non risolve l'esistenza, che è sofferenza. Il pessimismo di Schopenhauer. L'arte ci fa vedere il mondo con occhi nuovi, dice Schopenhauer, e in questo senso è una continua meraviglia. L'arte, infatti Schopenhauer ci dà, l'artista non è che un grande fanciullo, non è che un grande fanciullo. Il fanciullo è colui che si meraviglia di qualsiasi cosa gli accade. Ci siamo ragazzi. Per questo il genio, il genio è un grande fanciullo, è un grande bambino. Anche i bambini sono, infatti noi quando vediamo, bambini geniali, no? Bambini che già a tre anni riescono a fare le operazioni o sanno giocare a scacchi. Allora, il genio è qualcosa che è legato alla fanciullezza, alla meraviglia del mondo, diceva Aristotele, in questo ci aveva visto, cioè però la meraviglia del mondo, Aristotele diceva forse la filosofia. Schopenhauer ci dice che è l'arte. Quindi, l'arte è un modo per velare questa illusione che si chiama mondo come mia rappresentazione. L'arte permette di distaccarsi, non velare, distaccarsi dal mondo come rappresentazioni e guardarlo dall'esterno in maniera disinteressata. Perché l'arte, dice Schopenhauer, non ha scopo. L'arte non ha scopo. Non ha un fine. Non faccio opere d'arti per vendere i quadri. Non faccio opere d'arti per regalarla alla mia fidanzata. L'arte è fine a se stessa. L'arte lavora su dei vuoti, dice Schopenhauer. L'arte è, ha come fine, proprio il vuoto dell'esistenza umana, che è legato, che è velato, che è velato dalle rappresentazioni, dal mondo come illusione, dalle idee, dai concetti, dalle categorie, dall'intelletto che ordina canzianamente. Io credo che la miglior definizione di arte, oltre a Schopenhauer, ce la dà anche un altro grande del nostro tempo, del teatro. Carmelo Bene, uno dei più importanti attori si offenderebbe buonanima di Carmelo Bene in questo momento, ma una macchina attoriale, direi, definirla. Un nuovo artò del nostro tempo. Un genio ribelle, un geniaccio ribelle. Carmelo Bene diceva che l'arte, e per Carmelo Bene Schopenhauer era una sorta di educatore, l'arte, l'arte è il più astruso e stupido tra gli espedienti, l'arte è pura decorazione, l'arte è volontà di esprimersi, basta. L'arte è volontà di esprimersi, ok? L'arte, quindi, di cui parla Schopenhauer, di cui parla Carmelo Bene, non è l'arte di stato, l'arte dei musei, l'arte delle chiese, perché effettivamente l'arte, fin dalla sua storia, quando era ancora un fenomeno estetico, diceva Carmelo Bene, era destinata ai privati, ai potenti, all'imperatore, come alla chiesa, no? Un Velázquez, ai tempi, nel Cinquecento, solo un principe poteva ammirarlo. Oggi invece l'arte è delle plebi, l'arte è diventata consolatoria, l'arte è diventata industria culturale, l'arte è diventata modo per monetizzare nella globalizzazione, e quindi si azzera l'arte, dice Carmelo Bene, è facile accederci. Una volta invece non era facile accederci, si accedevano solo i medici, ci accedevano solamente i grandi principi, i grandi imperatori, i grandi papi. Quindi l'arte non è qualcosa che ha a che fare con i meme sui social network, le serie tv su Netflix, il cinema, l'editoria, arte di stato, arte borghese, questa è. Anche il teatro non è, diceva Carmelo Bene, che è rappresentazioni di stato. L'arte è tutta borghese oggi. Un grande artista invece, se davvero è artista, se ne sbatte dell'arte, lasciandola quello che è. L'arte è in gloriosa defecazione. Quando Manzoni, non Alessandro Manzoni, ma il pittore Manzoni, fa quella scatoletta, con scritto merda d'artista, ci dice esplicitamente questo. Ci dice esplicitamente questo. L'arte si pone per quello che è. L'arte, l'arte vera, è pericolo. L'arte vera è inquietudine. L'arte vera è criminale, dice Carmelo Bene. E in questo senso non è stato a modo suo, Carmelo Bene è un criminale. In modo suo ha sempre cercato il limite, il patibolo, no? Carmelo Bene è stato grandioso. Ce n'è solo uno di Carmelo Bene che nasce uno ogni cento anni, eh? Che ha distrutto tutti i concetti borghesi che avevamo dell'arte e in particolare del teatro. Ecco, io credo che il teatro di Carmelo Bene rappresenti al meglio quello che intendeva Arthur Schopenhauer con arte, eh? Ma anche i grandi musicisti, Wagner, eh? Richard Wagner. Allora, Wagner, quando poi Woody Allen, no? Lo prenderà in giro nei suoi film dicendo, ho sentito la cavalcata delle Valkyrie, mi è venuta voglia di invadere la Polonia. Eh sì, perché la musica di Wagner è qualcosa che va al di là della musica, è qualcosa che va al di là delle melodie, è qualcosa che va al di là delle note, è qualcosa che ti muove, è qualcosa che ti potenzia. La musica, in questo senso, come arte delle arti, potente, eh? La musica dei grandi tenori, quando sentiamo una Maria Callas, quando sentiamo un pezzo di Bellini, di Rossini, ecco che cos'è l'arte. Quando sentiamo Beethoven, che supera a se stesso, nello stesso inno alla gioia. Ecco, è qualcosa che è volontà di esprimersi senza scopo e che lavora nel vuoto. Ed è un modo, ed è un modo per guardare con distacco il mondo come rappresentazioni, cioè il proprio mondo, il mondo dell'individuo, che è un mondo illusorio, ci dice Schopenhauer. Il poeta e il musicista sono in grado di cogliere le forme pure del mondo, dice Schopenhauer, prendendo così distanza dalla volontà di vivere che è desiderio ed egoismo. Per cui il concetto di artista è pienamente ottocentesco e, ripeto, lontano dall'idea di arte come rappresentazione di Stato, faccio l'artista per allisciarmi i governanti come facevano i giullari nell'economia cortense medievale. L'arte non è industria culturale, di cui ci hanno parlato bene i filosofi di Francoforte. Non è l'arte della civiltà dei consumi, plebea, l'arte plebea, l'arte volgare, l'arte conformista, l'arte che non è copia della copia. Non è altro che copia della copia, cioè plagio del plagio. L'arte non è merce, l'arte è volontà che si esprime. E quindi l'arte oggi non è solo questo, ma ha al suo interno la possibilità di produrre una realtà illusoria, le arti figurative in particolare, creano realtà illusorie e quindi ci permettono di separare in modo puro, dice Schopenhauer, ciò che nel vedere è nella sensazione. L'arte separa la sensazione dal vedere perché il vedere è già intellettuale. Il sensitivo invece è immediato, non è immediato. L'arte che colpisce il sensitivo, l'arte di Francis Bacon, quando guardiamo dei quadri di Francis Bacon, prima di vederli colpiscono tutto il nostro corpo. L'arte è questa cosa qua, dice Schopenhauer, è immediata, è espressione della volontà, non ha scopo. È in sé e per sé, è intuizione immediata dell'intelletto. Sono diverse le arti che Schopenhauer prenderà in considerazione, l'architettura, la scultura, ma soprattutto la poesia, la tragedia. La tragedia, ragazzi, ad esempio, la tragedia, quella tragedia che poi Nice ci racconterà la nascita della tragedia greca, la nascita, la tragedia e la commedia nascono in Grecia, in un periodo particolare, tra l'altro, storico e politico della Grecia. La tragedia, ad esempio, ma questo già Aristotele ce l'aveva detto quando parlava di arti poetiche, cioè la possibilità di poetiche, cioè la possibilità attraverso il teatro e la poesia di attivare quel meccanismo che si chiama catarsi, cioè purificazione delle passioni. Che cosa fa la tragedia? La tragedia mostra il lato terribile della vita, la miseria dell'umanità, il dominio del caso e dell'errore. La tragedia ci fa vedere che i giusti non vincono mai, anzi, perdono tutti nella tragedia, buoni e cattivi, non ci sono. E in questo senso, poi Nice riprenderà da questo concetto, la commedia non è nient'altro che una degenerazione della tragedia. I grandi comici sono innanzitutto grandi tragici. Totò insegna in questo, ok? Ma io un altro esempio di concetto artistico, un altro esempio preso dalla letteratura francese, dal realismo, dal verismo cosiddetto francese, in particolare mi viene in mente uno straordinario romanzo di Gustave Flaubert, Madame Bovary, Madame Bovary, che chi è Emma Bovary? È una donna annoiata, questa noia che si impossessa della donna, una donna sconfitta, che ha una volontà di vivere, che non riesce a realizzare. La storia di Madame Bovary, ragazzi, è fantastica. La storia di Emma Bovary, di questa donna che si sposa con Charles Bovary, cioè questo medico che è piuttosto noioso, maldestro e quindi trascura la moglie. Gli dispensa, sì, ogni tipo di delicatezza, ma non lo riesce a dimostrare e questa Emma Bovary lo annoia, lo annoia anche la sua monotonia e la sua vita matrimoniale. Emma Bovary cerca di uscire da questa noia matrimoniale, da questa noia relazionale, da questa noia tra congiunti, attraverso il divertissement, quello che si chiama passatempo e i suoi passatempi sono letture di grandi romanzi, romanzi d'amore, romanzi erotici, romanzi di cui si appassiona e addirittura Emma Bovary trova nei libri più realtà, si emoziona più leggendo che vivendo la sua vita. Ma questa Emma Bovary tradirà suo marito, nonostante rimanga incinta dallo stesso, tradirà il marito prima con il giovane Léon Dupuis, con cui condividerà appunto le cose belle della vita, i libri, il teatro, l'opera. E poi Léon Dupuis la lascerà, se ne andrà via e lei ci rimarrà talmente male, soffrirà così tanto che sarà difficile riprendersi. Si riprenderà con un'altra relazione, una terza relazione con Rodolphe Boulanger, un ricco proprietario terriero. Emma Bovary cerca di soddisfare un desiderio che però è sempre mancante, che è sempre mancante. Con Rodolphe sembra andare bene, i due preparano una fuga, la cosiddetta fuitina, ma Rodolphe è sposato, anche lui, e alla fine non prenderà, non farà questa scelta, non perà con Emma. E ancora una volta Emma rimarrà con il due di picche. Ancora una volta Emma rimarrà sedotta e abbandonata. Ancora una volta Emma non raggiungerà il suo desiderio. Lo shock è tale per Emma, dopo Rodolfo, che si ammala gravemente e per qualche tempo anche si rifugia nella consolazione religiosa. E poi il romanzo si conclude con il ritorno di Léon de Poix. Emma Bovary rivede Léon de Poix, quel secondo amante che l'aveva lasciata, si reca da lui ogni settimana per incontrarla, mentre Charles crede che lei vada a prendere le lezioni di pianoforte. E in tutto questo Emma spende cospicue ed esorbitanti somme di denaro, perché comunque sta bene, è moglie di un medico, vive in una famiglia ricca. Comincia a indebitarsi Emma Bovary fino a quando questi debiti diventano appunto esplosivi e la gente comincia a parlare male di Emma Bovary, questa bocca di rosa della Francia. Comincia a parlare male, qualcuno dice che appunto faccia le corna al marito, faccia peccato d'adulterio, c'è del pettegolezzo in questo. Emma Bovary è piena di debiti, cerca appunto di trovare il modo di uscire da questi debiti, ma in realtà Emma Bovary non troverà mai l'oggetto del suo desiderio, non raggiungerà mai l'oggetto del suo desiderio. Questi uomini che poi la deludono, la deludono nelle aspettative, non l'aiutano neanche quando è piena di debiti. Ed ecco che allora Emma Bovary non riesce a sostenere questa sofferenza, questo dolore esistenziale, prenderà dell'arsenico e morirà in modo anche molto penoso e lento. Charles, il marito, capirà il dolore, i tradimenti, le sofferenze di questa donna solo, solo dopo, e anche Charles, ahimè, morirà, poco troppo tempo, lasciando la figlia orfana. Quindi un romanzo tragico, un romanzo che è tragedia, un romanzo che ci fa vedere, terminando appunto con il suicidio della volontà di vivere, questo desiderio che non si realizza. Ragazzi, ma sono i temi anche che Giacomo Leopardi con le sue poesie, con Silvia, con il dialogo di un islandese con la natura, ci fa vedere. La sofferenza umana, l'incapacità di soddisfare il desiderio, perché il desiderio si nutre di desideri continuamente. La vita non è che una condanna, la volontà di vivere non è che una condanna, il peggior delitto di un essere umano non è che quello di essere nato. Nel momento in cui nasciamo sappiamo che dobbiamo morire, questo è il paradosso della nostra vita. Quindi l'arte è uno, diciamo così, degli espedienti, delle alternative che l'uomo può trovare, non è per tutti, dice Schopenhauer in questo, solo pochi ci arrivano a essere artisti con la maiuscola, Carmelo Bene, Wagner, Bellini, Rossini, Flaubert, solo pochi ci arrivano a raggiungere questo atteggiamento nei confronti della vita che non è che contemplazione disinteressata del mondo. Questo modo di appunto cogliere le idee essenziali, cogliere l'essenza della vita, l'arte come colei che rivela il mondo in modo autentico, l'arte come liberatrice. Poi c'è un secondo modo, dice Schopenhauer, che è la compassione, cioè un sentimento anch'esso, dice Schopenhauer, disinteressato e gratuito. Compassione deriva da cum pathos. Pathos in greco significa sofferenza, quindi cum pathos significa soffrire insieme. Chi è che compatisce? Chi è che compatisce? Colui che riconosce nell'altro una sofferenza, che anche l'altro sta soffrendo da solo come sto soffrendo io. Quindi questa compassione, anche qui, di indifferenza stoica, imperturbata dell'altro. Schopenhauer la chiama agape. Agape e pietas. L'agape è appunto il voler bene all'altro in modo autenticamente disinteressato. È un voler bene, dice Schopenhauer, fine a se stesso. L'amicizia è un mescolamento di agape ed egoismo, dirà Schopenhauer. Ed è pietas, perché la pietas che cos'è? Una forma anch'essa di amore elevata che si fonda sulla compassione, cioè sulla prendersi cura dell'altro. Prendersi cura dell'altro. Prendersi cura dell'altro però non è facile, perché Schopenhauer ci ha parlato del dilemma dei porcospini. Il dilemma dei porcospini, di cui ci parla il grande Schopenhauer, ma anche la serie tv straordinaria consigliata da alcuni miei alunni, Neo Genesis Evangelion, in cui ci fa vedere come gli esseri umani vivono questo paradosso legato alla relazione, al legame. Noi siamo porcospini, cioè siamo animali, mammiferi, che in inverno cercano calore, quindi cercano il calore di un altro porcospino, ma non possono avvicinarsi tanto perché hanno gli aculei e quindi si pungerebbero, morirebbero. E quindi noi viviamo strutturalmente questo dilemma del legame legato al fatto che se siamo troppo vicini ci pungiamo e moriamo, se siamo troppo lontani moriamo di freddo durante l'inverno. Ragazzi guardiamoci Neo Genesis Evangelion per capire questo. Serie tv che andava in onda nel 1995, se non sbaglio, su MTV, Neo Genesis Evangelion, è un anime diretto e sceneggiato da Hideaki Anno, è la storia in sostanza della città futuristica di Tokyo, di Neo Tokyo. Il protagonista è questo Shinji Ikari, siamo in un mondo apposto apocalittico, a 15 anni da questa catastrofe planetare chiamata Second Impact, il pianeta viene attaccato dai cosiddetti angeli del Vangelo del Nuovo Secolo appunto e questi angeli, che sono dei mostri, vengono, diciamo così, combattuti da queste megamacchine padroneggiate dai children, cioè dai bambini selezionati dall'agenzia spaziale NERV per guidare queste megamacchine che si chiamano EVA per combattere appunto gli angeli che stanno distruggendo il pianeta. Shinji Ikari è uno dei protagonisti e nella quarta puntata, in particolare Fuga dalla pioggia, ci fa vedere attraverso Schopenhauer che cosa significa il dilemma, il dilemma dei porcospini, cioè questa compassione, questa agape, questo amore disinteressato, disinteressato, non interessato verso un oggetto, ma è appunto un affetto, un sentimento disinteressato e gratuito, che Schopenhauer chiama Pietas e Agape. Il terzo tipo di alternativa e di pratica della Noluntas, quindi di rinuncia della volontà di vivere, è l'ascesi e la redenzione, ci dice Schopenhauer. Perché l'ascesi e la redenzione? Vi ricordate che Schopenhauer è appassionato, è un grande cultore di filosofia orientale, quindi ha studiato molto bene il buddismo, ha studiato molto bene l'induismo, sa che cosa significa la religione induista e buddista e quindi ha capito che l'ascesi, che è una delle pratiche appunto buddiste e induiste, è appunto questo, la scelta del nulla. Scegliendo il nulla noi non proveremmo più dolore. L'ascesi è il percorso che ci porta al nirvana, questo concetto di derivazione buddista che consiste nell'annullamento di ogni sensazione, quindi anche del dolore. Anche Picurei con questa visione. Per Schopenhauer quindi l'ascesi è il cammino verso un profondo e imperturbabile equilibrio dell'anima, cioè una atarassia. Ecco il sentimento. L'atarassia, che era un sentimento tipico, ragazzi, vi ricordate degli stoici post-aristotelici. L'atarassia, l'apatia, l'indifferenza. Ci permettono di guardare il mondo con distacco e quindi noi siamo in un equilibrio nel nulla con l'ascesi. L'ascesi però implica fatica, implica esercizio, implica allenamento. È per pochi. Kill Bill volume uno, questo ce lo fa vedere tantissimo. Quando lei va a Oma Thurman, va a prendere lezioni con quell'ex samurai che le insegna come praticare le arti marziali e l'uso della spada. Allora è un esercizio faticosissimo, quello dell'ascesi, perché implica rinuncia a ogni sensazione, rinuncia a ogni godimento, rinuncia a ogni piacere. Quindi è legato anche al digiuno, alla castità. Ragazzi, un altro grandissimo letterato tedesco che adesso mi viene in mente così ad Associazione Libera, Herman S. Se non avete letto Siddhartha, leggetelo. Siddhartha è proprio il concetto di ascesi che Schopenhauer ci descrive nel mondo come volontà e rappresentazione. Quindi l'ascesi è il punto di arrivo di questo cammino che è il nirvana, appunto. Il nirvana non è nient'altro che equilibrio del nulla e quindi trionfo della Noluntas. Bene, ci vediamo alla prossima con il grande Soren Kierkegaard.